Tutto è nato in memoria di mia figlia, che purtroppo era malata di linfoma, non ce l'ha fatta. Ci siamo trovati con la sua tese sull'alimentazione e da lì ci è venuta l'idea di prendere l'aspetto cibo, come cosa su cui lei aveva studiato e lavorato e anche su se stessa aveva fatto delle cose, per fare qualcosa di utile. Abbiamo preso dei nutrizionisti, abbiamo preso degli chef stellati e abbiamo creato il cibo ideale. Da lì è stato un po' il motore per finanziare un progetto di ricerca oncologica che abbiamo individuato al Dipartimento di Biologia Molecolare dell'Università di Urbino. Il cibo ideale, il libro, è stato un po' il motore. La cosa è diventata un po' un caso nazionale perché grazie agli chef stellati, un po' alla spinta, all'aiuto, in questi anni la ricerca è andata avanti, ha fatto passi molto importanti. Quindi quest'anno abbiamo deciso di fare questo grande evento, l'8 e il 9 di maggio, tra l'altro la data non è casuale perché il 9 di maggio sarebbe stato il compleanno di Francesca. Abbiamo detto facciamo un grande evento, parliamo di alimentazione, una maratona in salotti a tema, dove ci saranno esperti, politici, nutrizionisti, chef, si parlerà di carne, di vegano, di vegetariano. Cioè abbiamo voluto prendere il cibo da tutti i punti di vista e raccontare dei contenuti utili. Tutto sarà in diretta sulle pagine social della fondazione e abbiamo trovato la complicità dei media del territorio per riproporlo nelle loro trasmissioni o facendo dei collegamenti. Ovviamente è tutta un'operazione rivolta a sensibilizzare il più possibile gli imprenditori del territorio per aiutarci a completare questa ultima tappa del progetto di ricerca perché siamo veramente arrivati alla fine e quest'anno potrebbe essere vitale per poter dire che abbiamo messo un tassellino importante nel percorso. Addirittura durante l'evento un salotto sarà dedicato ai ricercatori che mi piace farli vedere e mi piace che possano raccontare da dove è partita la cosa e come saranno gli sviluppi. Il progetto è davvero molto molto interessante ed ha bisogno di un supporto per cercare di arrivare appunto a una conclusione come dici tu. Quindi l'appello a tutti gli imprenditori del territorio ma anche a tutte le persone che vogliono aiutarti in questo progetto. Cosa devono fare? Allora, riparlo ancora degli imprenditori. Gli imprenditori che vogliono daremo a loro la possibilità di mettere il loro marchio, il loro logo sulle pagine dell'evento e daremo in cambio delle copie del libro. Libro che può essere acquistato da chiunque nelle librerie del territorio o se vuole andare online esistono più librerie online da Amazon in giù dove è possibile comprare ovviamente oltre al sito della fondazione. In sovraimpressione ci dovrebbe essere un IBAN per chi vuole fare un bonifico e sulla pagina Facebook c'è un pulsante, abbiamo scelto anche questa forma un po' social, un po' digitale, dove chiunque può cliccare e semplicemente fare una donazione. Io dico anche un euro e tanti euro messi insieme possono essere utili per arrivare all'obiettivo che abbiamo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.